Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Sernia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 1.400.000 euro disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, su richiesta della Procura di Campobasso nei confronti di una società molisana e del suo amministratore, un commercialista. La società, finita nel mirino delle fiamme gialle, aveva maturato un debito erariale di oltre 16 milioni di euro nel corso degli anni. Tuttavia, mediante una serie di artifici, tra cui la sottoscrizione di fasse scritture private e la simulazione di rapporti debitori riconducibili ad attività di consulenza fittizie, l'amministratore aveva sostanzialmente svuotato le casse societarie, trasferendo la somma di oltre 1.400.000 euro dapprima all'interno di un'altra società appositamente creata e dallo stesso soggetto amministrata e successivamente, con analoghi artifici, accreditando gli importi sui conti correnti riconducibili ad un'altra società, attualmente operativa, consentendo così l'immissione all'interno del circuito dell'economia legale di somme che, invece, erano destinate allo Stato. L'indagine ha richiesto numerosi accertamenti bancari e diversi controlli incrociati, al fine di evidenziare la natura fraudolenta delle operazioni tra le varie società. Attualmente sono indagate quattro persone e i reati contestati sono la sottoscrizione fraudolenta al pagamento di imposte, il riciclaggio e l'autoriciclaggio.